Salve, sono Flavia Novelli e vorrei leggervi una poesia inedita scritta proprio ieri sera tardi dopo aver letto sui giornali le notizie dei dati diffusi da Bambin Gesù che tristemente ci dicono che nell'anno scorso ben 387 ragazzi sono stati ricoverati a Bambin Gesù per tentato suicidio o peridiazione suicidaria età media 15 anni il 90% di loro è costituito da ragazze quindi dedico ai nostri giovani e alle nostre giovani questa breve poesia corpi di pane impastato con il nostro sangue lievitato con dolore nel dolore corpi affidati a letti metallici di ospedali speciali per evitare che si facciano del male per evitare che si strappino via quella crosta di pane troppo sottile per proteggere un cuore di mollica corpi che fa notizia contare catalogare studiare corpi che dopo averli contati catalogati studiati tornano a essere invisibili resta solo l'odore di pane bruciato grazie a tutti grazie a tutti